God Save the Wine, è arrivata la primavera, in Toscana la primavera a San Gimignano è più bella, soprattutto arrivando uno vede subito Pietra Fitta, questo specialità bernacolo che indica la strada e scopriamo soprattutto la vernaccia, giusto? Giusto, sì, scopriamo un prodotto che non è che si scopre vista la storia che ha, è vista la storia che ha proprio questa azienda per questo vitigno. Noi facciamo tre tipologie di vernaccia, una selezione tra l'altro molto interessante che ha un'interpretazione moderna della vernaccia, frutto dell'unione dell'omonimo vitigno e un 10% di Sauvignon. E appunto la vernaccia, quindi però non solo vernaccia, perché voi avete fatto molto furore con queste etichette nuove, particolari, un po' di rottura, la sughera, rosso, questo che vino è? Allora, la sughera è un rosso di San Gimignano, l'idea dell'etichetta è quella di una libera interpretazione del nome la sughera, proprio come la corteccia della pianta si spacca, così si spacca anche l'etichetta. Un vino molto importante, noi facciamo anche un'altra tipologia di rosso interessante che è il Campidonne, che l'altro vino lancia... Campidonne come mai? Campidonne perché è un appezzamento, un vigneto dell'azienda, si chiama proprio così, perché adiacente a un convento e in antichità vi lavoravano solo donne. Ah, quindi allora assaggiamolo del... La particolarità di questo vino è che è frutto di due annate differenti provenienti da due vitigni. Quindi non è annata l'etichetta? Non è annata, ha solo edizioni. È un 60% San Giovese 2006, 18 mesi di barrique, 40% di Merlot giovane. E' proprio l'idea quella di sfruttare il Merlot giovane per dare questa freschezza unita però alla struttura e alla forza del San Giovese che ha fatto barrique e quindi ha attemprato un po' le sue caratteristiche nervose dell'acidità. Ecco, sicuramente una proposta che turberà i sogni di molti, ma che noi ci sentiamo di consigliare perché è effettivamente un vino molto piacevole, immediato, fresco, godibile, come è lo spirito del resto dei vini di San Gimignano, dove se si vuole andare a cercare complessità e altro ci sono le riserve di Bernaccia apposta. Certo, sì, anche noi facciamo una riserva che è la Costa, che fa fermentazione e affinamento in barrique, 12 mesi in barrique, quindi è bella strutturata, una grassezza notevole e una certa rotondità. Perfetto, grazie Marco e complimenti.